A sta la vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Rieccoci qua ragazzi con il nostro carissimo e potentissimo Gohan Super Saiyan Full Power. E oggi finalmente dopo aver eliminato Cell e aver concluso quell'odioso e maledetto Cell Game, andremo ragazzi a provare il nostro caro Gohan con le sue due mitiche trasformazioni. Stiamo parlando del Super Saiyan Full Power che ha già da un bel po' di tempo, ma soprattutto del Super Saiyan 2 che abbiamo sbloccato solamente durante il Cell Game e abbiamo visto per poco tempo, l'abbiamo utilizzato molto velocemente e appunto voglio andare assolutamente ad approfondirlo e a vederlo per bene in azione, magari con calma, in alcune battaglie in questo episodio. Ma prima di cominciare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare, se non l'avete visto, lo scorso episodio in cui ragazzi semplicemente siamo andati a fare la missione conclusiva del Cell Game, in cui abbiamo visto davvero tantissima roba, Gohan Super Saiyan 2 ha combattuto finalmente contro Cell scatenandosi, dopodiché Cell quando stava perdendo ha cercato di farsi esplodere sulla Terra, ma Goku si è sacrificato, Cell si è rigenerato, si è teletrasportato sulla Terra più forte che mai, ha ammazzato Trunks, poi Gohan appunto con l'aiuto di Goku ha lanciato appunto la Kamehameha padre e figlio potentissima ragazzi che finalmente ha spazzato via quel maledetto di Cell, Goku ha deciso di rimanere nell'aldilà, Vegeta ha deciso di non combattere mai più, i guerrieri Z hanno espresso due desideri con le sfere del drago, hanno fatto tornare in vita tutte le vittime di Cell e hanno tolto appunto le bombe da dentro i corpi di C-17 e C-18. Mr. Satan si è preso il merito di aver sconfitto Cell e Trunks è tornato finalmente nel suo futuro per sistemare le cose. Quindi ragazzi, se per caso non avete visto lo scorso episodio, mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati! Detto questo, adesso ragazzi possiamo finalmente concentrarci sul nostro caro Gohan, che al momento è l'unico che dispone di due trasformazioni, dato che lui ha passato tutti i livelli di Super Saiyan degli altri, quindi ha superato Super Vegeta, Super Trunks, Ultra Trunks, il Super Saiyan Full Power di Goku ed è arrivato a Super Saiyan 2, quindi l'unico al momento ad aver sbloccato questa cavolo di trasformazione mostruosa è Gohan. Quindi la cosa fighissima è proprio questa, che è l'unico guerriero tra tutti i guerrieri Z ad aver sbloccato questo Super Saiyan 2 potentissimo è Gohan, cioè il personaggio più tranquillo e pacato che esista. Infatti andava molto d'accordo con C16. Quindi ragazzi, noi al momento abbiamo il personaggio più potente di tutti quanti. Infatti nessuno al momento ha la trasformazione Super Saiyan 2 e questa è una roba davvero assurda. Però devo dire che c'è una cosa che mi infastidisce parecchio, ovvero il fatto che Gohan al momento non è in forma base ma è già trasformato in Super Saiyan Full Power anche se non ce n'è bisogno, non c'è nessuna minaccia in giro. Ok, Gohan si vuole tenere pronto, ma ragazzi, minacce, nemici forti non ce ne sono al momento. Quindi avrei preferito tantissimo se Gohan al momento fosse stato con i capelli neri, forma base, e poi si potesse trasformare appunto in Super Saiyan Full Power e Super Saiyan 2. Così facendo invece noi quando iniziamo le battaglie già siamo con il Super Saiyan Full Power e ci possiamo solamente trasformare in Super Saiyan 2 e non tornare neanche in battaglia in forma base. E questa cosa ragazzi succede anche su Xenoverse 2, c'è proprio questo Gohan qui che è già nel roster con il Super Saiyan Full Power e può diventare Super Saiyan 2. Quindi non c'è proprio Gohan forma base, anche se quando appunto ha sconfitto Cell ed è cascato giù per terra insomma era forma base, almeno lì ragazzi era forma base e si è visto, perché appunto lì aveva perso tutte le forze giustamente. Però ragazzi non ci hanno mantenuto Gohan forma base, cioè avrei preferito tantissimo vedere Gohan con questi abiti demoniaci di Junior senza il Super Saiyan Full Power, così poi mi sarei potuto trasformare in Super Saiyan Full Power o Super Saiyan 2 direttamente, scegliere invece no ragazzi, è un po' una forzatura, eppure l'abbiamo visto Gohan appunto con i capelli neri. E intanto ragazzi diciamo che ci saltano questa particolarità. Tra l'altro come potete ben vedere, qui ragazzi nelle trasformazioni di Gohan abbiamo Super Saiyan, si intende il Super Saiyan Full Power che è già attivo, e il Super Saiyan 2, quindi è l'unico personaggio ad avere tutte e due le trasformazioni, perché sappiamo ad esempio che Goku e Vegeta e Super Saiyan 2 lo avranno nella saga di Majin Buu, quindi è tutta altra storia. Qui ragazzi dice che il Super Saiyan dona effetti di supporto all'utilizzatore, aumenta le statistiche del 20%, ma la tua aura cala lentamente nel corso della battaglia, lo sapevamo. Mentre il Super Saiyan 2, ok, dona effetti di supporto all'utilizzatore, aumenta le statistiche non del 20%, ma del 50%, quindi è molto molto più forte, ma la tua aura cala lentamente nel corso della battaglia, immagino calerà ancora più in fretta del Super Saiyan Full Power. Ragazzi, vado a fare questo tipo di video perché a me piace provare i personaggi in questo specifico gioco, che non è uguale a Xenoverse 2 ad esempio, lì c'è il roster, scegli il personaggio e te lo giochi come vuoi, mentre qui abbiamo i personaggi che dalla prima all'ultima saga crescono, cioè cambiano di abito, appunto sbloccano trasformazioni, crescono di statura, insomma diciamo che ci sono tanti cambiamenti, e a me piace provare ogni singola versione del personaggio, ad esempio quando si cambia d'abito, quando sblocca una nuova trasformazione, e tutto questo per ogni personaggio giocabile di questo gioco, che sono praticamente 5 personaggi, quindi è per questo che lo faccio, perché ragazzi il gioco mi piace, e mi piace andare a vedere anche le trasformazioni, le varie potenze, appunto la figaggine di queste trasformazioni, ma soprattutto perché una volta passati avanti a questo momento, ad esempio nella saga di Majin Buu, non avremo più Gohan ragazzo, ma avremo Gohan appunto molto più grande, quasi adulto, no? Quindi non ci sarà più il Super Saiyan Full Power e il Super Saiyan 2 di questo tipo, ma ci saranno appunto il Super Saiyan normale e il Super Saiyan 2 di Gohan adulto. Ecco ragazzi, credo di essermi spiegato bene. A questo punto viene il bello e viene il divertimento, infatti ragazzi adesso il mio obiettivo è andare a cercare dei nemici, quindi Cyberman, Roboteschi, Robot del Red Ribbon, Soldati di Freezer, chi ci troveremo davanti? Ci troveremo davanti, andrà benissimo, basta ragazzi che ci scateniamo con il nostro caro Gohan, con il Super Saiyan Full Power e il Super Saiyan 2, con le varie mosse. Ma perfetto ragazzi, abbiamo davanti a noi dei soldati di Freezer con vari robot di livello 49, noi siamo di livello 55, quindi ci avviciniamo subitissimo, vediamo se ci notano, a volte dormono raga, a volte non ci notano neanche, ecco, come infatti anche adesso, dai forza vieni, ecco qua ragazzi, ci siamo, inizia la battaglia, fantastico, mamma mia ragazzi, dopo voglio provare anche la scarica, ovviamente, nel momento non ce l'abbiamo attiva, ok, evitiamo tutti i colpi, attenzione, andiamo con un po' di combo ragazzi, vai Gohan, vai vai vai, forza forza forza, vai distruggilo, sono delle mezze merda questi personaggi, non sono al tuo livello, dai ragazzi, vediamo un po', bam, attenzione, leviamoci, ok, vai forza, bam, madonna ragazzi, super, masenco, dai che lo eliminiamo così, fantastico, ragazzi, possiamo fare subitissimo la scarica, e la facciamo, vai Gohan, mamma mia ragazzi, il super saiyan full power con la scarica, è una figata assurda, super, masenco, raga, raffica ovviamente, lo distruggiamo in due secondi a sto robot, attenzione, ci sta mirando quel maledetto raga, vai, distruggilo, vai Gohan, fantastico, attenzione raga, potenziamento, ok, andiamo con un po' di combo, vai vai vai, distruggilo Gohan, fantastico, fine, bene raga, avete visto quanto è figo, ok, grado S 20.000 di, appunto, esperienza, e adesso ragazzi, andiamo a caccia di altri nemici, per provare anche il super saiyan 2, no? Ok ragazzi, ci troviamo nella gola orientale, e abbiamo dei robot del red ribbon, quindi andiamo contro di loro, dai, forza, mamma mia ragazzi, quanti ne appaiono, ecco qua il nostro robottino, con colori stravaganti, devo dire, e adesso ragazzi, vorrei andare ad utilizzare il super saiyan 2, per vedere come funziona, quindi, super saiyan 2, con quadrato, mamma mia ragazzi, guardate che figata, i capelli tutti sparati, il ciuffo, vedo anche i fulmini, ovviamente il super saiyan 2, presenti i fulmini, facciamo super masenco, mamma mia ragazzi, colpi critici, anche perché il super saiyan 2 ragazzi, è molto molto più potente, quindi è normale che faccia i colpi critici, andiamo subito contro di lui, vai 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 vai, forza vai Gohan, vai, madonna ragazzi, super masenco, dai terminiamolo, vediamo un po', quasi fatto, non ci provare tu, vai, forza, bam, distrutto ragazzi, come sa combattere bene Gohan ragazzi, ok, il super saiyan 2 ragazzi, se ne è andato praticamente, se ne è andato, si è disattivato, e quindi quando va a calare Laura, si toglie il super saiyan 2, quindi lo possiamo rimettere, vai Gohan, fantastico, dai ragazzi, andiamo con un po' di combo, non ti permettere a colpirmi con quei miseri colpi, maledetto robot, vai, attenzione, ok, bam, distrutto raga, ok, ci colpiscono ma non ci fanno neanche nulla raga, questa è la cosa che mi piace, vado a ricaricarmi per non perdere la trasformazione, ok, finalmente raga, usiamo liberamente sto cavolo di super saiyan 2, perché, cioè, usarlo solo nelle missioni non mi va bene, ok, dai ragazzi, andiamo con un po' di combo, bam, distrutto, non vale nulla, cioè raga, ma vi rendete conto un super saiyan 2 che combatte contro sti robot che non valgono un cavolo di nulla, facciamo botta meteorica, vai, bravo Gohan, distrutto, mamma mia ragazzi, due secondi ci ha messo, esperienza ottenuta, grado S, 19.000, punti, esperienza, perfetto, perfetto, dato che sono davvero un ingordo, non mi bastano queste due battaglie che abbiamo appena fatto, e quindi ragazzi, si va alla ricerca di altri nemici, cioè ragazzi, è bellissimo anche andare con un super saiyan full power, o comunque un super saiyan in giro in questa maniera, cioè raga, guardate quant'è potente Gohan, anche Laura gialla, potentissima, cioè raga, è una figata assurda, guardate, magnifico ragazzi, ci troviamo davanti a dei roboteschi, meglio così perché oggi voglio variare tipologia di nemici, quindi come avevamo detto, chi ci troviamo davanti, ci troviamo davanti, i roboteschi sono qui, quindi ragazzi, subito, ci facciamo avvicinare da loro, stanno arrivando, vero? E si ragazzi, ci arriva direttamente in faccia, e adesso raga, ci scateniamo davvero, allora, vediamo un po', abbiamo il super saiyan 2, madonna ragazzi, che poi la cosa bella è che Gohan è un personaggio davvero tranquillo, non gli piace combattere, eppure scatena tutta la sua potenza, ed è lui il primo a diventare il super saiyan 2, cioè, è praticamente il colmo ragazzi, comunque facciamo super masenco, madonna ragazzi, ok, non ci ha neanche beccato con quei missili, vado a ricaricarmi, ok ragazzi, stiamo davvero attenti, facciamo, botta meteorica, vai Gohan, attacco a seguire, che ce ne andiamo nell'acqua raga, e mi sa quasi sì, ok, quasi quasi ragazzi, andiamo a finire nell'acqua, vai, vai Gohan, madonna, fantastico, leviamoci ragazzi, attenzione, vai, dai, distrutto, perfetto ragazzi, dai che adesso tra poco arriva la scarica, una cosa che voglio controllare, è se possiamo tornare normali, c'è scritto super saiyan con triangolo, e quindi torna un super saiyan full power, interessante, ma c'era scritto anche ritorno, quindi se io faccio super saiyan 2, ok, in questo caso, ok, ritorna super saiyan 2, poi ragazzi, se faccio ritorno, che cosa fa? ah, e torna ugualmente allo stadio di super saiyan full power, io pensavo che ritorno significasse che appunto, ritornasse allo stadio forma base, invece no ragazzi, il gioco ci prende in giro, in un certo senso, quindi peccato, facciamo super saiyan 2 un'altra volta, dai, bene, dai ragazzi, partiamo con un bel po' di combo, vai, 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 forza, distrutto, levati, ok, non ci provare, super masenco, vai, madonna ragazzi, dai che possiamo fare la scarica, sono molto contento di questo, ci andiamo a ricaricare, ok, no, non ti permettere, leviamoci ragazzi, la scarica assolutamente la voglio fare, vai, sì, mamma mia ragazzi, è magnifico, quando fa la scarica con super saiyan 2, vieni qua, che ti do un sacco di mazzate, madonna ragazzi, guardate che roba, madonna, cioè bellissimo, ok, questi qua sono anche forti raga, devo dire abbastanza forti, vai distrutto, madonna raga, che calcione incredibile, super masenco, distrutti raga, fine, ok, rimasto il robot in aria, 26.000 ragazzi di esperienza, grado S, mamma mia, che cavolo di roba, ed è tornato automaticamente, ad essere un super saiyan full power, ce ne siamo accorti, e quindi ragazzi, oggi con questo episodio, siamo andati a fare alcune battaglie, volevo appunto, provare assieme a voi, Gohan ragazzo, adesso, non quando diventa adulto, ma adesso, subito dopo il cell game, così da usare, il super saiyan full power, e anche il super saiyan 2, secondo me, tutte e due le trasformazioni, sono davvero epiche, solo che, come vi ho già detto, avrei preferito, che Gohan fosse forma base, e poi si potesse scegliere, di diventare super saiyan full power, o super saiyan 2, mentre così, diciamo che siamo abbastanza limitati, possiamo andare soltanto, dal super saiyan full power, al super saiyan 2, e poi viceversa, quindi, con tutti e due i comandi, quindi, sia ritornando normali, e sia, tornando al super saiyan, ritorna comunque super saiyan full power, sta cosa non l'ho capita, potevano fare che, ritornando normali, Gohan tornava, con i capelli neri, forma base, che è davvero fantastico ragazzi, quella capigliatura, appunto, col colore nero, è davvero fantastica, solo che non ce l'hanno fatta vedere per niente, solo quando, Gohan, ha perso tutte le forze, contro Cell, insomma, dopo averlo sconfitto, ed è caduto per terra, solo lì lo abbiamo visto, con i capelli, appunto, neri, mentre, in tutto il resto del tempo, dopo che è uscito dalla stanza dello spirito, e del tempo, aveva i capelli, gialli, i capelli dorati, con il Super Saiyan Full Power, che in realtà, ragazzi, rende i capelli quasi bianchi, quasi senza colore, un po' brutti, comunque ragazzi, io mi sono divertito moltissimo a portarvi questo episodio, mi vado ad andare a provare i vari personaggi, con le varie trasformazioni, fatemi sapere assolutamente che cosa ne pensate di questo episodio, fatemi sapere se vi piace il Super Saiyan Full Power, se vi piace il Super Saiyan 2, magari quale delle due vi piace di più, ma penso il Super Saiyan 2, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate del mio pensiero riguardo Gohan, forma base che secondo me ci doveva essere in questo gioco, quindi ragazzi, brevemente ditemi se siete d'accordo o in disaccordo con appunto quello che ho detto. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' divertito, se volete ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti, e ricordatevi sempre che io tornerò. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.